Dottor Abdelah Redouan, lei è il segretario generale del Centro Islamico-Culturale d'Italia. Vorremmo fare alcune domande. Gli italiani hanno avuto il primo impatto con l'Islam grazie alla comunità marocchina, una delle più numerose in Italia e soprattutto quella di più antico insediamento. Un impatto non diffidente, dicono, forse perché gli immigrati del regno, meglio degli altri, riescono, secondo lei, a conciliare quello che è la vita spirituale in uno stato laico? Io penso che questa osservazione è giusta e dobbiamo ritornare al contesto marocchino per sapere che il contesto marocchino non è un blocco monoculturale e dunque c'è una pluralità e una diversità nel Marocco, diversità etnica, anche culturale e religiosa, che fa che il marocchino è più aiutato con questa diversità e pluralità per inserirsi in altre culture e in altre realtà. E dunque questa è un'osservazione giusta. Secondo lei, i musulmani del Marocco riescono a vivere la propria fede dai immigrati come in patria? Oppure l'esperienza migratoria nei paesi non islamici comporta per loro un allontanamento dalla fede? Io penso che la fede islamica come fede viene sempre vissuta individualmente e di conseguenza penso che la realtà italiana, con la libertà che offre, permette al marocchino o al non marocchino di vivere la sua fede normalmente. Ovviamente c'è il contesto culturale che cambia, ma come ho detto si adeguano e si adattano facilmente più che le altre realtà. Quali sono le misure che si dovrebbero adottare da parte dello Stato italiano e da parte delle stesse comunità di fede islamica per impedire che le moschee si trasformino da luoghi di perghiera, purtroppo anche in centrali eversive? Io penso che sono due livelli di intervento. C'è un intervento economico-sociale dove l'immigrato non deve sentirsi escluso o chiuso in una sfera particolare. E questo penso che è lo sforzo che deve fare lo Stato italiano. Ma c'è anche uno sforzo che è chiesto al nuovo cittadino immigrato, marocchino o altro, di sentirsi anche parte integrante di questo Paese e di questa società dove il sentimento nazionale e l'appartenenza a una nazione, a una realtà culturale deve essere conciliata con l'appartenenza a una religione particolare. Negli ultimi mesi con la ratifica della Carta dei Valori e altre iniziative come i corsi di alfabetizzazione, educazione civica da voi promossi in collaborazione con lo Stato italiano il rapporto tra la comunità islamica e le istituzioni italiane sembra indirizzato verso una proficua integrazione. Come sono i rapporti con le altre comunità religiose e in particolare con la Chiesa Cattolica? Io penso che queste nuove tappe interprese dallo Stato italiano sono benvenuti nel senso che aiutano in qualche modo a prendere coscienza di questa esistenza di richieste particolari dalla parte della comunità islamica da una parte ma c'è anche il senso di responsabilizzare in qualche modo questa comunità per inserirsi di più e di cercare i modi per riuscire questa integrazione e per questo noi al Centro Islamico-Culturale d'Italia eravamo i primi a intraprendere azioni concreti che vanno in questo senso come imparare l'italiano per le donne ma anche fare alcune conferenze in altre moschee dove si è parlato della Costituzione italiana del background culturale italiano, della legge italiana. Penso che la Carta dei Valori va in questo senso perché come il suo titolo lo precisa Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione dove l'integrazione diventa un obiettivo essenziale per permettere a vivere in società e a vivere serenamente la convivenza con le altre realtà. Per quanto riguarda il rapporto con la Chiesa Cattolica penso che la Chiesa Cattolica è ovviamente una grande componente e ha la maggioranza dell'Italia ma penso che i rapporti fra il Centro e il Vaticano sono ottimi nel senso che abbiamo sempre superato tutte le difficoltà con il dialogo. Che rapporto c'è tra quello che è la cultura del Marocco e la nostra cultura? Penso che il Marocco e l'Italia si ritrovano nella cultura mediterranea fanno parte di una grande area geografica che era dall'inizio la culla di tutte le culture e di tutte le civiltà e di conseguenza questo mare nostro non ci divide ma ci riunisce e di conseguenza penso che io trovo molto similitudine fra il carattere dell'italiano e del marocchino per quanto riguarda anche il tempo il cibo e un modo di vedere la vita in qualche modo. Questo centro culturale quanto è frequentato? È frequentato soprattutto perché è un luogo di culto dunque c'è questo rapporto con i fedeli che vengono sempre il venerdì particolarmente riceviamo quasi duemila ogni venerdì che vengono al centro per la prighiera alla moschea che è la più grande d'Europa fra l'altro e durante le grandi feste probabilmente è il più grande punto di riferimento per i musulmani perché quando la festa del pellegrinaggio o la festa del fine Ramadan coincide con una giornata non lavorativa riceviamo fino a 35.000 persone e dunque rimane questo centro un punto di riferimento per la comunità musulmana in tutta l'Italia. Abbiamo detto carta dei valori ma quali sono i limiti? È vincolante per qualche cosa? Io penso che questa carta del fatto che non è vincolante è meglio così nel senso che quando una carta è vincolante vuol dire che viene imposta all'altro invece quando è lasciata all'adesione dell'altro ha più plasticità nel senso che permette a ciascuno di noi di valutarne il contenuto e di aderire deliberamente e così diventa veramente a più effetto che quando vieni soltanto vincolante è firmata e basta posso firmare mi stanno a seguire a che serve? Penso che quando una cosa viene perché il vantaggio di questa carta è che costituisce un'occasione per riflettere sul contenuto di questi valori che sono condivisibili da tutti normalmente Ognuno se lo può accalzare a proprio uso e costume? Non penso che dobbiamo avere lo stesso senso di questi valori e penso che i diritti umani oggi sono un bene condivisibile per tutti e di conseguenza diventa questa adesione deliberata diventa più forte senza essere vincolante Le ringrazio Grazie a voi Grazie a voi